Ben trovati! Si avvicina un altro fine settimana e si avvicinano tanti appuntamenti sportivi per tutti gli amici che seguono lo sport nella provincia di Vicenza. A partire dalla partita ovviamente dell'Anerossi-Vicenza che scenderà in campo con il Ravenna sabato sera alle 20.45 al Menti. Quale tempo ci aspetta quindi sui nostri campi? La giornata di sabato sarà interamente stabile. Avremo delle schiarite piuttosto ampie per l'intera giornata con temperature, attenzione, che saranno molto bassi al primo mattino, prossimi i valori anche di meno 5 in aperta campagna su alcune zone. Nel corso della giornata le temperature saliranno restando comunque su valori massimi inferiori ai 10 gradi. Attenzione perché dopo il tramonto inizierà subito a fare freddo, piuttosto velocemente. Durante l'orario della partita le temperature potranno già scendere al di sotto degli zero gradi. Giornata di domenica che si apre ancora stabile soprattutto nella prima parte della giornata. Poi nel corso del pomeriggio avremo degli annuvolamenti che saranno via via più compatti soprattutto verso la serata, quando potrebbero presentarsi anche delle precipitazioni che in quel caso saranno nevose a tutte le quote, anche sulle zone pianeggianti. Tuttavia sussiste parecchia incertezza su questo fenomeno e vedremo meglio di capirne di più negli aggiornamenti che seguiranno. Potete seguirli sulla pagina facebook di Serenissima Meteo. Con questo appuntamento è tutto, un buon fine settimana agli amici sportivi!